Salve a tutti, ho comprato questo prodotto da DiEMRO, è appena arrivato e ora andiamo a testare. Cercavo una macchina sottovuoto che mi desse un buon compromesso per la qualità e prezzo e ora andiamo a fare quello che è il primo test per il sottovuoto, molto semplicemente andiamo a bloccare, andiamo a premere il sotto, va a consigliere e in automatico la macchina di rivaio è sottvuoto. Una volta effettuata questa prima operazione, vi procederà alla sigillatura. Questo avviene in pochissimi secondi e ora siamo già pronti per poter provare. Vediamo il perfetto sottovuoto, la perfetta sigillatura. Quindi grazie, grazie ad Agriveuro, grazie per questa macchina e la consiglio a tutti.